Un grazie davvero di cuore da parte mia perché senza di te sarebbe stato davvero tutto molto 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 più difficile, più complicato, invece hai sempre avuto la parola giusta al momento giusto, hai sempre avuto anche il richiamo giusto al momento giusto e quindi per me, penso per Giovanni, per Paolo, per tutti coloro che hanno avuto l'onore di lavorare con te è stato davvero un grande privilegio. Sei una persona fantastica, grazie di cuore per tutto quello che hai fatto. Grazie